Fari puntati sulla sicurezza. 110 persone identificate, di cui 35 stranieri e 14 con precedenti penali o di polizia, controllati 9 veicoli e 4 bar. Sono i numeri dell'ultima operazione delle forze dell'ordine a Vicenza, nei quartieri a più alta tensione, nelle zone calde segnalate dai cittadini. Espulso uno straniero che è stato trovato in piazzali giusti a dormire su un giaciglio di fortuna occupando, a discapito dei cittadini, la pensilina dell'autobus. Il sistema di prevenzione antiterrorismo è stato poi allertato a mezzogiorno quando una donna in stato di agitazione è stata segnalata vicino alla base militare Ederle in viale della pace. La donna proferiva frasi sconnesse accusando le forze dell'ordine generale e i militari americani in particolare di essere responsabili di oscure trame antisistema. Per questo chiedeva di parlare con i responsabili del sistema informatico della caserma, considerandoli responsabili di violare la sua privacy e quella di altre persone. Tra le mani aveva materiale divulgativo di un gruppo politico complottista. La donna è risultata scomparsa da un paesino delle Marche qualche giorno fa. I poliziotti hanno informato i familiari e hanno affidato la 46enne ai sanitari del suo M118 per le cure del caso.